Presidente Gallo, perché l'adesione di Conf Cooperative al protocollo APE? L'adesione di Conf Cooperative a questo protocollo perché è un'associazione che rappresenta imprese cooperative, cioè imprese attente al territorio, alla transizione ecologica, all'inclusione, non può non sottoscrivere un documento di questo tipo, confortati dalla presenza di numerosi partner già della nostra progettazione all'interno del protocollo stesso.